ciao volevo riprendere questo che è uno dei primi video di questa serie di lezioni per parlare di due argomenti nuovi che abbiamo a malapena toccato finora che sono i modifiers che si trovano in questo tab con la piccola chiave inglese e gli effetti che sono una particolarità di green pencil e che hanno questo piccolo simbolino con la bacchetta magica e un po di stelline allora per esempio questa animazione fa uso di questi effetti e possiamo vedere l'animazione originale senza gli effetti tirandoli via momentaneamente quindi questa è l'animazione originale e come vedete c'è un disegno molto semplice fatto solo di due colori e invece grazie agli effetti il primo è un effetto di glow e vedete che si crea questa specie di luminosità all'interno il secondo effetto è un effetto di rim che crea una luce laterale e poi un effetto shadow che crea un'ombra dietro grazie agli effetti si può diciamo aumentare la complessità o aggiungere dei piccoli dettagli che sono calcolate automaticamente quindi non abbiamo bisogno di disegnarli anche i modifiers sono qualcosa di simile solo che invece di essere degli effetti applicati sopra all'intera immagine sono delle variazioni a volte anche riescono a creare nuovi segni dipende ovviamente sono di tanti tipi però rispetto agli effetti possono essere assegnati anche solo a una parte del disegno per esempio selezionandoli solo per tipo di materiale o per tipo di layer un esempio può essere un modifier come questo use saturation che somiglia a quello che si può fare in altri programmi di grafica cambiare per esempio il colore e la saturazione o la luminosità dei colori però tutti i modifier hanno la possibilità di influenzare solo certe cose per esempio questo disegno contiene un layer lines e un layer fills però in realtà fills non è usato quindi in pratica c'è solo layer lines però ha anche più di un materiale il materiale per esempio solid fill è quello della goccia e quest'altro materiale solid fill 01 è quello dei riflessi quindi per esempio il questo modifier use saturation potrebbe avere come come destinazione solo il materiale solid fill ed ecco quindi che ha cambiato il colore solo del materiale di quel tipo oppure se scelgo solid fill 001 vedete ha cambiato solo quello della luce con questo tastino qua si inverte la selezione quindi in pratica allarghiamo un po la finestra dicendogli solid fill 001 ma inverti vuol dire tutti i materiali tranne questo quindi è un modo anche se abbiamo tanti materiali per o tanti layer per applicarlo non a un livello ma a più di uno e quindi ad esempio potrei applicare a livello solid fill una variazione rimettiamo tutto quanto dove era per esempio invece del blu originale potrei provare a cambiarlo leggermente verso il viola e meno saturo e meno luminoso però solo il materiale solid fill mentre invece se voglio fare qualcosa solo a quest'altro materiale potrei aggiungerne un altro e aggiungendone un altro assegnarlo quest'altro solo come influenza all'altro materiale e magari fare delle variazioni diverse e quindi per esempio appunto che ne so rendere più luminoso quell'altro materiale e magari ecco portarlo sul giallo e bisogna capire che i modifier vengono impilati uno sopra l'altro e quindi agiscono uno dopo l'altro gli si può cambiare nome per cui questo potrebbe essere u saturation base e questo potrebbe diventare anche per esempio hs non riflessi quindi grazie a questo possiamo cambiare di nome possiamo impacchettarli in maniera che se ce ne sono tanti si possono vedere più facilmente l'elenco posso disattivarli momentaneamente ecco perché può essere più comodo che non cambiare il materiale perché cambiare u saturation in questo modo avrei potuto ottenerlo anche cambiandolo da qui però il vantaggio del modifier è che posso farlo e disattivarlo molto facilmente con questo lo disattivo nel render sono tutte cose tipiche dei modifier anche in blender e un'altra cosa per la quale un modifier può essere utile è per esempio che posso animarne i valori potrebbe essere che all'inizio dell'animazione potrebbe essere 0,5 e lo animo e alla fine dell'animazione o magari in mezzo ecco meglio potrebbe diventare 0,4 e salvo quest'altro keyframe e poi alla fine dell'animazione può tornare 0,5 lo risalvo in questo caso salva da solo perché ho la registrazione premuta ed ecco che quindi la goccia cambia colore mentre arriva a metà e poi torna indietro quindi vedete viene animato il valore quindi questo può essere un motivo per voler usare un modifier gli effetti rispetto ai modifier non è possibile assegnarli solo a certe parti del disegno quindi anche essi hanno molte opzioni come vedete appunto c'è un elenco e vengono fatti uno dopo l'altro uno dopo l'altro significa che se io spostassi il glow per esempio alla fine e lo posso spostare trascinandolo così viene eseguito dopo rim e shadow mentre invece in questo modo viene eseguito prima quindi l'effetto può cambiare si nota leggermente in pratica possiamo vedere che c'è una piccola variazione glow avviene anche nella parte di rim mettendolo in fondo mentre invece mettendolo qui prima viene il glow qui e dopo rim quindi ecco che possiamo capire perché ha senso metterli in ordine e ovviamente come vedete con tutti questi puntini è possibile animare anche i valori degli effetti solo che bisogna pensare agli effetti come qualcosa che agisce sull'intero oggetto grease pencil mentre invece i modifier permettono di essere separati e quindi di funzionare solo su alcune parti grazie e alla prossima